Lezione della Guida del Sentiero numero 242, 2 giugno 1976 Il significato spirituale dei sistemi politici Saluti, miei cari amici Possano le nostre benedizioni toccare la parte più profonda del vostro essere Così che possiate per sempre conoscere la gloria della vostra verità più intima Che possiate perdere la paura di questa verità più intima Che il vostro impegno nei confronti di tutto il vostro essere Sia sempre più ancorato alla totale devozione del vostro sentiero Sempre più spesso vi accorgete che il dolore che volevate evitare farà spazio alla gioia Una gioia che non avreste mai potuto sentire se non avreste provato proprio quel dolore Sempre di più scoprirete, miei cari, che quando non temete E non evitate la negatività, la distorsione, la distruttività Che sono parte del vostro essere Anche se solo di una piccola parte Allora si verificherà un'alchimia divina Che realizza la vera integrazione e trasformazione del vostro essere totale Grazie a un processo sempre più profondo Individualmente sempre più persone tra di voi hanno scoperto che le cose stanno veramente così Anche se a volte gli ostacoli sembravano molto grandi Ed essi appaiono sempre molto di più grandi di quanto non sia poi in realtà Man mano che un numero sempre maggiore di voi supererà individualmente questi ostacoli interiori Le paure, le resistenze inutili Sempre più la vostra comunità crescerà in forza, gioia, in abbondanza e in un fondo Dato realismo Per questa lezione ho annunciato un argomento un po' insolito Ma vedrete che si inserisce bene nella sequenza delle lezioni E ha un suo significato completo nel vostro processo Sia come individui che come comunità L'argomento è il significato spirituale dei sistemi politici Parlerò dei sistemi politici più noti sul vostro piano terrestre A questo punto della vostra evoluzione Spiegherò poi l'origine divina di ciascuno di questi sistemi Distorsioni in ognuno di essi Vi mostrerò inoltre come ognuno di questi sistemi Sia nelle loro manifestazioni divine che in quelle distorte È una realtà del vostro mondo interiore Da lì procederemo ad acquisire forse una nuova visione più chiara Di quella dell'era nuova Prendiamo prima di tutto un sistema ormai obsoleto Ma ancora presente nel vostro mondo E classifichiamola nella categoria monarchia e federalesimo Quali sono le origini divine di questo sistema? E quali sono le sue distorsioni? Il significato o l'origine divina La verità interiore di questo sistema Può essere visto in alcuni esseri umani Altamente sviluppati E pienamente consapevoli della loro responsabilità Lo sviluppo porta sempre con sé la responsabilità E chi è disposto ad assumerla Può, secondo la legge eterna e divina E in modo commisurato all'impegno verso il suo compito Sentire il diritto di godere dei privilegi che l'accompagnano Una persona che non è disposta ad assumersi tale responsabilità Non si è neanche guadagnata questi privilegi di diritto O si sente troppo colpevole per volerli veramente O è così ribelle da volersene semplicemente impossessare Giustificando questo atto col fatto Che chiunque se li sia veramente guadagnati È in realtà prepotente e sleale Ora, anche se si abusa dell'autorità Coloro che non sono disposti ad assumersi l'impegno Rispetto all'impegnativo compito della leadership Non hanno nessuna ragione di ribellarsi E non avrebbero bisogno di ribellarsi Se soddisfacessero le condizioni Che danno loro diritto a quei privilegi Tanto invidiati e ambiti Questi sono invidiati solo quando il prezzo Non è stato pagato Coloro che si dedicano pienamente Ai loro compiti di guida Delle nazioni e dei governi Si assumono la loro responsabilità Secondo la legge divina Essi guidano coloro che non vogliono Assumersi le inconvenienze di un tale compito Che presenta di verità molte difficoltà Oltre che privilegi La leadership richiede una grande autodisciplina Cosa che gli indulgenti con se stessi preferiscono Non praticare I sudditi spesso non vogliono rinunciare A una gratificazione immediata Al contempo si ribellano a coloro che li guidano Ne vogliono assumersi i rischi Delle sporsi della critica Della cannugna e dell'ostilità Come invece chi si trova sotto i riflettori Deve essere abbastanza forte da sopportare tutto questo È certamente più facile seguire che guidare Essere un comune cittadino Che è il leader di una nazione Chi segue può permettersi di essere pigro Anche se la pigrizia non è necessariamente di tipo fisico Può essere pigrizia della mente Pigrizia dello spirito Pigrizia del coraggio Pigrizia del cuore I veri leader creano un seguito E in tale distinzione al loro compito Danno il meglio di sé Usano il loro potere per il bene di tutti Non si sottraggono ai disagi personali In relazione al loro compito Questa è in generale la realtà divina Contenuta nei regimi di monarchia o di feudalesimo È facile vedere come tutto questo Possa essere distorto da esseri umani Spietati, egoisti o irresponsabili Che abusano del potere per il proprio guadagno materiale Ostacolando lo svolgimento della giustizia Della legge, della bellezza Dell'equità Dell'intercessione divina Il vostro leader Il re, se volete Che è al timone della nave È sempre un canale di ispirazione divina Se questa ispirazione non viene ricercata E messa al di sopra di ogni cosa Ci sarà abuso Quando questi sistemi Apparvero per la prima volta Nel vostro mondo Questo era il loro istinto Il sito messaggio Sono apparsi Quando l'umanità In generale Non era ancora in grado E non voleva Ne era sufficientemente sviluppata Per assumersi la responsabilità Di potersi gestire da sola La gente aveva quindi bisogno di una guida Ovviamente Non devo entrare nei dettagli Per mostrarvi come questo ruolo Non sia sempre stato svolto Anche se nei primi tempi Alcuni esseri altamente sviluppati Si sono spesso incarnati Per svolgere tali compiti Prima o poi Però le tentazioni Sono fatte troppo forti Altre persone Presero il potere Con la forza O con la manipolazione Abusando della loro posizione Approfittando Di questo potere acquisito Che forma Questo sistema politico Nel mondo interiore Di un essere umano Anche questo Non è troppo difficile Da osservare Amici miei Avete tutti scoperto Che ogni essere umano Ha un certo talento Per essere un leader In un modo O nell'altro Un talento Per assumere Delle responsabilità A servire Una causa Per quanto All'inizio Di questi talenti Possono essere Ancora sepolti Possono essere Risvegliati Dal loro torpore Portando Alla fine L'individuo Su questo sentiero Se non coltivate Questo talento Rimarrete Dei sudditi Con Molto meno diritti E privilegi E sarà così Come desiderate Se non volete Seguire Questo compito Superiore Di assumervi Le responsabilità Di guidare Di esporvi Di rischiare Tutto ciò Che ne consegue Per servire Veramente Una causa Superiore Allora Non avrete Il diritto Di lamentarvi Quando saranno altri A intraprendere Questo compito E sottolineo Ancora una volta Che questo potrebbe Prendere Espressioni Molto sottili Non manifestandosi Innessariamente In una leadership Palese O in una leadership Esterna Potete benessere Anche In Un insegnante Di scuola Un supervisore D'ufficio Potete svolgere Qualsiasi compito Sulla terra Ed essere Nel vostro ambito Un leader Un sovrano O un semplice Suddito Entrambi I ruoli Hanno il loro valore E si distinguono Tra loro Ma quando Il suddito Rifiuta Il suo talento Di leader Indipendente Ovunque Sia al suo posto Poi si ribella Alla leadership Che non vuole assumere Perché è troppo Pigro Timoroso Egoista Autoindulgente Allora Commette Un'ingiustizia E una disonestà Tanto grave Quanto quella Del sovrano Che abusa Del suo potere Ovunque si trovino I vostri talenti In voi Giace La facoltà Di una guida Superiore Nel senso migliore Del termine La guida Non è solo Un'espressione Politica Può essere Espressa In ambito Della vita Prima di tutto Questo talento Naturale Di leadership O guida Deve essere assunto Nei confronti Di se stessi Come espressione Di un processo Integrato Ciò significa Che la capacità Di esercitare Una certa dose Di disciplina Di fermezza Di forza E non soccombere Alla tentazione Di indulgere Sottomettersi Il sovrano Debole Che non vuole Essere disturbato E rinuncia A questa Necessaria Sana autodisciplina E' ugualmente Responsabile Rebonsabile E dannoso Quanto colui Che è troppo severo Duro Chiuso E sentimenti Del cuore Della compassione Che non allenta Mai il suo dominio Nessuna Dei due Riesce a trovare L'equilibrio Tra disciplina E rilassamento E la coscienza Intuitiva Di quanto L'uno L'altro E' il più Appropriato La disciplina Non può essere usata Nei confronti Degli altri In modo corretto E equilibrato Se non è Prima di tutto Usata Verso se stessi Se esiste Solo nei confronti Degli altri Mentre si è Personalmente Auto Indulgenti Come molti Governanti Hanno fatto E ancora Fanno Si viene a creare Un doloroso Squilibrio Questo è il motivo Per cui Il vostro percorso Insegna Principalmente Con una particolare Enfasi Solo apparentemente Eccessiva L'autodisciplina La vera Autopurificazione E trasformazione Su questo sentiero E' impossibile Se non si acquisisce E si esercita Costantemente L'autodisciplina Per superare Per superare la resistenza Sempre Inaguato A muoversi A superare Se stessi Solo Quando si è Riusciti In misura Considerevole A dominare La resistenza Allora La vostra Leadership E quella Degli altri Si può Evolvere In modo Organico In forma D'aiuto Di insegnamento O di qualsiasi Alto ruolo Di responsabilità Che potreste avere Nella comunità Nell'interno Del proprio Sistema Dell'anima Esistono Entrambi Gli aspetti Il sovrano E il suddito Inteso Quest'ultimo Come cittadino Senza responsabilità L'uno è ricco L'altro è povere L'uno ha diritti L'altro no Come orientate Le vostre energie E la vostra direzione Nella scelta Di cosa coltivare Sulla vostra strada Per il nuovo sviluppo Abusate di voi In questo doppio principio Se un principio Viene abusato Allora Anche l'altro Deve esserlo Poiché sono Due parti Di tutt'uno Come reagite A quegli atteggiamenti In cui voi Desiderate Imbrogliare E ottenere qualcosa Senza Esservelo guadagnato Avere una vita Più facile possibile E gratificazioni gratuite Che non si sono raggiunte Con l'onestà E con tutto ciò Che un essere umano È capace di dare Se si segue Questa disciplina Dentro di sé Allora Si riesce A guadagnare Nel proprio ambiente Di vita L'autorità Nel più alto Senso della parola Allora Il principio del sovrano Nella vostra anima Può agire In modo armonioso Significativo E appropriato Nei confronti Del principio Del cittadino Responsabile Dentro di voi Con questo atteggiamento Con questo atteggiamento Ci si può Aprire Verso l'ambiente esterno E camminare Su un terreno Realmente solido Questa È la monarchia È il fedalesimo In senso divino Non in senso abusato Essa deve Precedere Come Tutta la crescita Cellulare Dall'interno Verso l'esterno Si comincia Da se stessi Poi pian piano Quando si è stabilita Una sufficiente Autogestione Una piccola Porzione Di leadership Sorgerà naturalmente Quasi senza Intenzione Per così dire Crescerà Come un albero In qualsiasi campo Attivate I vostri talenti Innati E svolgete Il vostro compito Man mano Che la vostra Statura Crescerà Grazie al vostro Continuo sviluppo La sfera Della vostra Influenza E del vostro Potere positivo Si Amplierà E comprenderà Sempre più Sudditi Una monarchia Bella Armoniosa E organica E quindi Un'espressione divina Nella vostra vita Personale Che può In alcuni casi Estendersi Nella vita pubblica Se è così Estabilita Questo E allora Il modello Del sistema Politico Feodale E monarchico Che fa parte Dello schema Di tutte le cose Ma anche La seconda categoria Di cui voglio parlare Fa parte di questo schema Delle cose Prendiamo Il socialismo E il comunismo Come un'unica categoria Qual è L'espressione E il significato divino Di questi sistemi Non dovrebbe essere Troppo difficile Per voi Vedere che qui L'idea di Uguaglianza Giustizia E equità Per tutti Può sembrare È una contraddizione Se dico Allo stesso tempo Che tutte le entità Non sono ugualmente sviluppate Alcune sono più forti Altre più coraggiose Altre più attrezzate Più meritevoli Della posizione privilegiata Di guida Di un paese Di una società Di una civiltà Di gruppi di individui Di un'impresa O di qualsiasi altra cosa In questo senso Le persone Non sono uguali Naturalmente È davvero Una contraddizione? Direi di no A causa Dello spirito Dualistico Della coscienza umana Spesso le cose Sembrano essere In contraddizione Ma non lo sono Quindi È vero Che le persone Sono create uguali Ma anche Che non sono uguali Nella loro espressione Nel loro sviluppo Nella loro direzione È nelle scelte Che fanno Ogni giorno E ogni ora Della loro vita Le persone Non sono uguali Nei loro sentimenti Nei loro pensieri Nelle loro decisioni Nelle loro azioni Si direbbe Che un adulto E un bambino Sono uguali Per quanto riguarda Il valore Intrinsico E innato Ma non sono certamente Uguali Nelle loro espressioni Di vita Quindi Possiamo dire Che non c'è Contradizione Nel dire Che sono Entrambi Uguali E diversi La forma di governo In cui tutti i cittadini Vengono uniformati È stata Molto chiaramente Una reazione All'abuso Della monarchia E del feudalesimo Si è abusato Della disobbaglianza Caratteristica tipica Della democrazia Della monarchia E del feudalesimo Dopodiché Appare Un altro aspetto Della verità divina Per contrastare Quell'abuso Della verità Quella distorsione Della verità Ma anche In questo secondo caso È stato un abuso Cosa Che avviene sempre Quando Una verità Appare In una contraddizione Con un'altra Andando all'estremo La mente dualistica Annulla L'unità interiore Presente In tutte le vostre Incongruenze Un filo rosso Di violazioni Che rende debole Anche la nuova verità Nel nuovo sistema Si abusa Del concetto Di uguaglianza Per stabilire Un'uniformità Che non è più In linea Con la vitalità Dello sviluppo umano E con le divergenze E le varietà Dell'espressione E anche Dello sviluppo umano Qui L'equità L'uniformità E il conformismo Sostituiscono Completamente Il libero svolgimento E l'espressione Individuale Della scelta Del talento E dello sviluppo Ora Che forma Prende tutto questo Nella vostra anima Qual è La realtà Interiore Di questa forma Di governo Nella vostra Espressione divina L'anima Umana Sa Profondamente Che Non importa Quanto distorto E negativo Possa essere Un altro Essere umano Egli è comunque Una manifestazione divina E come tale Veramente uguale A quel livello Più profondo Se riuscite A Percepire Questo Il vostro Senso comune Il vostro amore Vi permetteranno Di percepire E di determinare Anche le differenze Di espressione A livello Dell'espressione Esteriore E' ovvio Che non vi è Uguaglianza Coloro che Svolgono Responsabilmente I loro compiti Nell'universo E vivono Secondo le leggi Spirituali Non sono Nell'espressione Uguali A coloro Che abusano Egoisticamente Delle leggi Distorcono Secondo i propri Scopi personali Individualmente O Nella vita Politica E non si preoccupano Se Le loro Ripeto Se non si preoccupano Se Le loro azioni E i loro atteggiamenti Influiscono Negativamente Sugli altri L'abuso L'abuso delle leggi Può avvenire Su un livello Più evidente O può esprimersi In un atteggiamento Sottile Non di meno Insidioso Con effetti Persino peggiori Della manifestazione Esterna Sarebbe assurdo Affermare Che un individuo Che nega La realtà divina Dentro o fuori Sia uguale A colui Che nutre O sostiene La verità Dell'amore divino Questa diversità Esteriore E individuale Può essere Riconosciuta In modo Veritiero E creativo Solo quando Si riconosce Anche L'uguaglianza Di fondo Di tutta La vita Divina E A questa L'espressione Interiore Nella sua Purezza E nella manifestazione Politica Esteriore Del socialismo O del comunismo Guardiamo ora La terza forma Di governo Ormai popolare Che è La democrazia Capitalistica Come conoscete Voi su questa Terra La sua manifestazione Nel suo Significato divino Sono La totale Libertà Di espressione E l'uso Dell'abbondanza Divina In accordo All'impegno Personale Eppure Allo stesso tempo Nella manifestazione Divina Vi è anche Spazio Alla cura Di coloro Che sono Non sono In grado Ad un livello Più profondo O non vogliono Assumersi La responsabilità Per se stessi Questo sistema Non proclama Sentimentalmente Che queste persone Dovrebbero Trattare Gli stessi Benefici Di coloro Che investono Tutto Il loro essere Nella vita Ne sfrutta Tutte queste persone In modo Da giustificare La spinta Del potere Del soprano In questo senso Questa forma Di governo È la più vicina Espressione Della coincidenza Degli opposti Delle nuove Ere Si può percepire Qui La fusione Degli altri due sistemi Di cui parlavo Almeno In una certa misura È comunque Una forma Di governo Molto più matura Delle altre due Tutte le categorie Naturalmente Hanno delle Sottocategorie La distorsione Della democrazia Capitalistica È inoltre Molto evidente Del fatto Che l'abuso Del potere Da parte Di pochi individui Più forti E ostinati Penalizza Coloro Che non riescono O non sono ancora Disposti A stare in piedi Da soli E il danno Di questo comportamento Va ben oltre Il risultato Naturale Di causa Effetto Dovuto Al loro Rifiuto Di badare A se stessi Assumendo Un ruolo Parassitario A spese Degli altri Ma in questa Distorsione Il sistema Capitalistico Gli sfruttatori Diventano Loro stessi Parassitari In un altro senso Usando Proprio Quelli che Vogliono Usare Loro Piuttosto Che aiutarli A risvegliarsi In modo Giusto E appropriato Essi stessi Si inseriscono Perfettamente Nella realizzazione Di coloro Che sono Pigri E imboroglioni Rendendo Valide Le loro Scuse E dando Una Gestificazione Apparente Alle loro Argomentazioni Che il mondo In cui Vivono È ingiusto E che Loro Che non sono Tanto avidi Sono vittime Degli avidi Entrambi Entrambi Gli estremi Possono Abusare Di questo Sistema I socialisti Possono Diventare Più Parassitari E usare Tutta la struttura Del potere Come scusa I forti E i diligenti Come rischiano Che rischiano E investono Possono abusare Del sistema Giustificando La loro avidità Il loro potere Paragonate All'effettiva Natura Parassitaria Dei pigri In altre parole In questo sistema Essendo Una fusione Delle due Precedenti Categorie Si trova Anche Una fusione Negativa Di entrambe Le distorsioni Questo Si può Osservare In vari modi Nella vita politica Se si Guarda All'espressione Pubblica Entrambe Le espressioni Delle due Categorie Contengono Più Possibilità Di abuso In questo sistema Proprio perché Questo sistema Offre anche Maggiori Possibilità Per una sana Fusione Dei due Apparenti Opposti Le altre due Categorie Offrono Meno libertà E quindi Forse Meno possibilità Di abuso Ad un certo livello Questo può Sembrare falso Ed è falso Ma su un altro Livello è anche vero Maggiore lo sviluppo E la libertà Maggiori sono I pericoli Di abusi E di distorsione La libertà Include sempre Maggiori Possibilità Di abuso Questa È una realtà Universale Nell'anima Così anche Nelle espressioni Esterne Quando l'abuso Raggiunge il suo apice Sorge la dolorosa Confusione Del dualismo Il pendolo Inizia a oscillare Nella direzione Opposta Così All'interno Dell'anima Si può oscillare Da un atteggiamento Sottomesso A un atteggiamento Ribelle I sistemi I sistemi I sistemi politici Oscillano L'autoritarismo Di una forma O l'altra A sistemi Troppo Permissivi Che permettono A chi Se ne approfitta Di sentimentalizzare La propria Causa E così Si va avanti E indietro Nei secoli Fino a quando Il margine Dell'oscillazione Del pendolo Si restringe Avvicinandosi Appunto Al punto Di fusione Il capitalismo Democratico E la democrazia Capitalistica È una tale Espressione Ma Se Il sistema È basato Sulle teorie Astratte È governato Solo dalla mente La possibilità Di errori Di distorsioni Abusi Sarà sempre presente È importante Quindi Creare Un buon canale In grado di percepire La volontà divina E la legge divina Per voi È facile Vedere Come questo Principio Si applichi Al vostro Mondo Interiore Quando vi viene Data La libertà Di gestire Responsabilmente La vostra vita Quando è facile Abusare di questa Libertà Se Non affrontate Costantemente E conscienziosamente I vostri Veri motivi Nascosti Quanta Ammaturità È necessaria Per astenersi Dalle tentazioni Di abusare Della libertà Quanta Autodisciplina È necessaria Per farlo D'altra parte Ci vuole anche La maturità La forza E la lealtà Per poterli stare Responsabilmente Sulle proprie gambe E non diventare Un peso Per i propri cittadini Questa tentazione È sempre presente Sia nella vostra vita personale Che nella vita pubblica Quando si cede Continuamente Alla tentazione Si costruisce Una recinzione Sempre più stretta Attorno alla propria Libertà emotiva E si crea Un sistema Di tirannia Interiore In cui Non ci si sente Più liberi Per un po' di tempo Potreste trovare Delle circostanze I vostri sentimenti La vostra volontà Ora Osserviamo Con la nostra coscienza Di questi tre sistemi fondamentali Il loro significato divino E i loro abusi All'interno E quindi Inevitabilmente All'esterno Come queste leggi Si applicano La Più piccola situazione Della vita individuale Immediata È alla più grande scala Del governo mondiale Come si può Integrare tutto questo Con la politica E diventare parte Della politica Della nuova era Qual è la sua idea Alcuni di voi Ci hanno già pensato Hanno avuto molte idee E quindi cerchiamo Di essere un po' più specifici In primo luogo La politica Della nuova era Deve essere sempre guidata Da chi coltiva Un canale Di ispirazione divina Chi non possiede Un tale canale Non riesce sempre A valutare Se qualcosa È vero O falso La mancanza di percezione Può essere dovuta Al fatto di avere interessi E non sapere Per motivi egoistici Oppure Può essere Davvero Ignoranza Innocente Se è una cosa del genere Esiste Ma Più gli individui Saranno seriamente Motivati A scegliere Il loro leader In base a questa considerazione Più i leader Di questo tipo Saranno effettivamente Scelti Come si può essere sicuri Su di un particolare leader Ed è naturale La domanda che scorge Semplicemente Senza averne Un contatto personale Tuttavia L'ispirazione interiore Può anche funzionare Per guidare Le vostre facoltà Intuitive E le vostre scelte La scelta È più facile Oggi Che in passato Da un lato Il sistema di comunicazione Consente di acquisire Maggiori informazioni Sulle potenziali figure Di spicco I progressi tecnici Che rendono possibile Tutto questo Sono l'ennesimo aspetto Della maturazione E dello sviluppo Dell'umanità Oggi È anche più facile Scegliere I leader ispirati Perché L'energia E la potenza Della coscienza Di Cristo Si diffonde Crea canali In tutto il mondo Ci vuole coraggio A rivendicare Una tale comunicazione Anche se A riconoscere Quanto sia difficile Mettere da parte L'interesse personale Poiché Se l'interesse personale È la cosa principale Il canale È naturalmente Bloccato Se l'altruismo E l'interesse È l'obiettivo primario La politica Della nuova era Conterrà Ognuno di questi Tre sistemi E non In contraddizione Ma come Un insieme Integrato Può Sembrarvi Impossibile Che Una forma di governo Possa Cambiare Monarchia Feodalesima Socialismo Comunismo Capitalismo Democratico Eppure è così Infatti Come ho sottolineato Prima Tutti questi sistemi Contengono qualche verità E non sono in contraddizione Tra loro Come scoprirete Sempre più spesso Sul vostro sentiero Tutti questi sistemi Le apparenti contraddizioni Dovranno mescolarsi Armoniosamente Nella personalità umana Per esprimere al meglio La loro creatività E la loro realizzazione Infatti Se un governo mondiale O il governo interiore Di un individuo Non contiene Saggiamente Ciascuno di questi sistemi In una manifestazione positiva E che si completano A vicenda Esso Non può Mantenere L'equilibrio necessario Per una vita piena E armoniosa A quel punto Un tale governo Verrà Prima o poi Superato Non è forse Questo Il caso Più e più volte All'interno Di un individuo Ad esempio La coscienza In lotta Non è Sempre tesa A mantenere Un'interdipendenza Un individualismo Esagerati E a spese Degli altri Per paura di conformarsi Di non perdere L'individualità Non è altrettanto Vero Dall'altro capo Della scala Che la personalità pigra Ed esigente Vuole essere accudita Senza il minimo sforzo Da parte sua Una personalità Di questo tipo Vuole assolvere Solo la minima parte Del suo dovere Eseguito in modo ribelle Risentendosi Di tutto ciò Che gli viene richiesto Essendo piena Di risentimenti Farà ciò Che non può evitare Contro la sua volontà Questo È veramente Il compito Di un bambino ribelle Che ha bisogno Di un genitore Che lo disciplini Non trovate Di continuo Che la vostra anima Vi è un'area Che vuole usare Con un certo orgoglio Il potere E avere l'abbondanza Senza preoccuparsi Degli altri Tutte queste Espressioni In una forma O nell'altra Esistono nell'anima Di ogni essere umano Se non vengono In superficie Rimangono nascoste E quindi Hanno più potere Di influenzare Indirittamente La vita Della persona Se non altro Creano un muro Di separazione Tra la solitudine E la paura Per sfondare il muro Bisogna veramente Esaminarlo Affrontarlo In modo che Venga eliminato E che il canale divino Si liberi Da se stesso E così Per quanto riguarda La politica mondiale Della nuova era L'umanità Ha attraversato Finora tutte Queste varie fasi Di sviluppo Così proprio Come voi Quali individui In via di purificazione Potete trovare Questi aspetti Anche dietro di voi Così Anche l'umanità Continua A fluttuare Da un'espressione Di vita politica All'altra E va avanti Fino a quando Non sarà chiaro Che un sistema Non è del tutto Buono E l'altro Del tutto Cattivo Una delle più grandi Insidie Per la comprensione Umana Della verità Universale E della realtà Cosmica Della vita In cui Ci si trova L'errore dualistico Di questo giusto Quello sbagliato L'ho detto tante volte Ora Porto questo principio Proprio su questo argomento I politici Della nuova era Devono guardarsi Dall'abbracciare Una nuova forma Di governo Contro un'altra Forma di governo La natura Della politica Della nuova era Sarà proprio Quella di non essere Di parte Non solo all'interno Del proprio paese Ma anche per quanto Riguarda le forme Di governo esterne Il compito Il compito del politico Della nuova era È infatti Quello di rappresentare Tutte le forme di governo Tutte le forme di governo Così come il mondo Le conosce oggi Nelle sue espressioni divine Questo Può accadere E accadrà Se le persone Aprono i loro canali E vedono L'unità All'interno All'interno Dell'apparente Contradizione Questo dovrà utilizzare E naturalmente È già iniziato Nella propria comunità Dove si Combinano Monarchia Feodalesimo Comunismo E socialismo Democrazia capitalistica Voi Li riunirete tutti Quando vi ribellate Ad uno E appoggiate l'altro Siete già in distorsione E lasciate Che questo Vi ricordi Che siete in distorsione E che avete bisogno Di guardare Dentro di voi Di sapere Quale parte di voi Vuole creare La distorsione E forse È la parte pigra Che ce l'ha Con l'autorità Senza volerne Far Pagare Far parte E pagare il prezzo È forse È la parte invidiosa Che rifiuta Di conquistarsi Ciò che invidia O è la parte forte In voi Che segretamente Vuole abusare Del potere Guardate quella parte In voi Che potrebbe Voler usare Un aspetto Contro l'altro Quando ciò È inappropriato Per causa Di qualche tratto Nascosto Negativo Ed egoistico Quando il sistema È appropriato Non ci sarà mai Una connotazione Qualsiasi problema Si presenti Non sarà attribuito Al modello esterno O all'espressione Degli eterni Principi divini Interiori Ma si guarderà Ad altri livelli Della realtà Per cercare La soluzione Livelli che Contengono Violazioni Molto personali Della verità Non importa Quanto pubblica Possa essere La questione Allora Un modello Avrà Sempre spazio Per un altro L'unico modo Per raggiungere Questa armonia È l'unità Di spirito Nel governo Della vostra comunità Così come Nel vostro Autogoverno Il governo Delle intricate Molteplici Personalità Che siete È quello Di arrendersi Totalmente Alla volontà Della altissima Guardate A quell'aspetto In voi Che si oppone A questa resa Che si acceca Per non vedere Che in una specifica Questione Arrendersi Sarebbe la scelta Appropriata Che rifiuta Di arrendersi Alla volontà Allora Capirete Le vostre ostruzioni La vostra Comunità Sta crescendo Molto velocemente Ha bisogno Di pilastri Sempre più Responsabili Che conoscano Questo principio E che dedicano Totalmente La loro vita Ad essere Un canale divino Così Quelli di voi Che desiderano Farlo In ogni situazione Che presenta Un problema Interiore O esteriore Nelle vostre Reazioni emotive Con quelle manifestazioni Esterne In entrambe Possono entrare In se stessi E chiedersi C'è Dio In questa O in quella Specifica situazione Se vi interrogate Onestamente Otterrete La risposta Dal modo In cui Vi sentite E Quelli Tra voi Che sono In maggior modo Responsabili Del governo E della vostra comunità Diventeranno Direttamente O indirettamente Influenti Nel Creare La politica Della nuova era Forse Questo diffonderà La verità Di cui Parlo qui Ed eliminerete E eliminerà L'inutile Divisione All'interno Di un altro partito O di un governo O di un sistema In cui Le persone Sono Uno contro l'altro Trascurando Le vere Questioni Che formano Il problema Solo Allora La realtà Divina Verrà Vissuta In tutti Questi Sistemi E Capirete Anche Come Ogni Singola Realtà Divina Possa essere Distorta E abusata Quando L'umanità Avrà Raggiunto Anche Questo Tipo Di Approccio Ai problemi Umani Sarà Fatto Un passo Da gigante Verso La maturazione Attualmente Il numero Di coloro Che vedono La vita In questi termini È relativamente Basso La maggior parte Degli esseri umani Tende ancora A dire Questo atteggiamento Principio È giusto L'altro È sbagliato Un sistema È buono L'altro È cattivo La maggior parte Degli esseri umani Soprattutto Nella vita politica Opera Ancora A livello Del se Maschere In un certo Senso Questo è già Un progresso In quanto In passato Il livello Generale Era quello Del se Inferiore Che veniva Grossolanamente Agito Sia dai leader Che dai subiti Nessuno Si era mai Preoccupato Di nasconderlo L'individuo Così Come era L'etità umana Deve attraversare La curva Dell'evoluzione La creazione Della maschera È il primo Aspetto Della presa Di coscienza Che il se inferiore È inaccettabile E non paga Anche se La maschera È egoista E ipocrita Questa fase È temporaneamente Necessaria Fino a che non Si raggiungerà Una maggiore unità Più tardi Il se inferiore Potrà essere Identificato E valutato Il che Renderà Il se maschera Superfluo Questa È l'unica strada Per raggiungere Il se superiore Voi come individui Siete già Al di là Di questo stato E ora state lottando Per eliminare Il se maschera Che è Per adesso La regola Generalmente accettata Nonché Una finta necessità Per la vita politica E per I politici Non avete bisogno Di restare In questo quadro Di riferimento Cioè Il se maschera È la forma Dualistica Del bene Contro il mare Ancora per molto tempo È che Sollievo Liberazione È scoprire Di discernere Non solo Nella vostra Visione del mondo Ma in tutto Il vostro approccio Alla vita A voi stessi E alle vostre relazioni La bellezza La verità La realtà L'amore La rettitudine Ogni sistema E vedere Anche dove E come Ognuno di essi Si presenta In modo distorto Questa È la via Rivoluzionaria Verso la nuova era Che renderà La verità Molto di più Grandi Di quanto Possiate ancora Sognare Ma finché Questa versione Non sarà Coltivata Questa verità Non potranno Mai rivelarsi In voi Forse Sentitemi Amici cari Le immense Correnti Della potente Energia Che avete Creato E con le quali State costruendo Un nuovo mondo Bellissimo Ognuno di voi È avvolto Nella più profonda Sicurezza Sotto la guida Del mondo Voi siete Benedetti Avete ascoltato La lezione Della guida Del sentiero Numero 242 Il significato Spirituale Dei sistemi Politici Per ulteriori Informazioni Visitate il sito Web www.bibliotecadelsentiero.org Fini